Ben ritrovati, oggi vi portiamo in giro a Marano Lagunare, è una delle partenze dell'edizione 2022 del Giro d'Italia e su Marano Lagunare c'è molto da raccontare. La location è unica, la definirei quasi esclusiva, siamo all'esterno di un casone, però siamo con Giuseppe Milocco, Beppi Circo, partiamo dal casone ma possiamo allargare il tiro su Marano, quanto c'è da raccontare, da vedere a Marano Lagunare? A Marano Lagunare c'è da vedere tantissimo, partiamo dal carattere del maranese, il maranese è un po' chiassoso come carattere, sembra il primo approccio difficile da avvicinare, ma anche il forestiero si accorge che quando con un maranese incomincia un dialogo, magari una parola, è irrefrenabile, quindi praticamente il nostro carattere si distingue un po' come gente di mare da quello dell'entrotera, il legame con la friulità, col friuli e col carattere del friulano. Se poi parliamo della cittadina abbiamo al proprio interno una dimostrazione di architettura che è varia, si inizia ad esempio ai primordi, anche già la via Sinodo all'impronta di un castrum romano, quindi si ricorda il castrum. Poi se andiamo a vedere le altre case ne abbiamo del 1300, del 1200, ci sono certi abitati, ancora queste costruzioni che sono di quel periodo, poi man mano che praticamente sono passati gli anni, i secoli, arriviamo fino al 1500 e poi abbiamo delle splendide case del 1700 e del 1600. A parte il palazzo dei preveditori che è un bellissimo palazzo che se va recuperato e sistemato verrebbe una cosa unica, assieme con la torre millenaria che ha una differenza di 400 anni da quando sono stati costruiti, quindi avremo proprio nella piazza grande, quella che è la piazza che tutti i maranesi amavano per le passeggiate perché lì hanno cominciato a mangiare il primo gelato, lì hanno visto la prima corriera, lì hanno visto i primi diciamo tra virgolette stranieri dicendo sempre di forestieri, però si sono trovati bene con noi. Allora marano con il suo porto, con il suo ponte nuovo, con la vecchia pescheria, è un unicum, un unicum che va veramente visitato piano piano e magari con qualche persona che racconta qualcosa. Io consiglierei magari di contattare magari più avanti verso i periodi estivi, abbiamo il gel poi quindi nella pescheria vecchia avere magari qualche brugio per avere come guida, se poi parliamo anche del museo, della laguna lì proprio, è una ciliegina veramente messa su una torta. Fetti Giuseppe, ma si mangia bene a Marano? Beh, io sinceramente parlando non vorrei fare della politica commerciale con nessuno senza offendere nessuno, ci sono ovviamente dei ristoranti virtuosi che fanno da mangiare bene per l'amore di Dio e anche i costi sono equi, però privatamente ognuno si comporta nella propria maniera, nei propri ideali, io non posso giudicare questo. Senti, dobbiamo dire che voi avete subito delle invasioni nei secoli? Beh, le invasioni prima di tutto abbiamo avute, se vogliamo dire, nell'antichità, a parte Attila, quella lì, da parte della Serenissima che ha praticamente tolto il possesso della fortezza di Marano, o addirittura di beni di Marano, sono passati alla Serenissima. Poi praticamente abbiamo la Grande Guerra che abbiamo subito dopo Caporetto un grosso esodo di maranesi che si sono sparpagliati come altre comunità del Friuli lungo l'Italia. La maggior parte però i maranesi sono andati in Toscana, il nucleo più grosso era nelle Cinque Terre di quello che ho letto o praticamente ho avuto come documentazione. Qualcuno era anche giù in meridione, quelli hanno passato i guai, poverini. Ma comunque è storia e quindi in questo momento avendo delle nubi qua vicine, diciamo di guerra, ci dovrebbe far pensare queste cose del passato. Senti, e la parlata dei maranesi? La nostra parlata è una parlata che si può intendere Istro-Veneta. Il motivo perché? Praticamente se partiamo da certi paesi livieraschi dell'Istria, parlano quasi come maranese. C'è una piccola modifica, se andiamo a Mugia addirittura esattamente come maranese. Grado ha una versione di questo dialetto che finisce con la A-O, Marano, Gomagna con la O. Se andiamo nel Veneto, Gomagna, A. Però in sintesi cambia un po' la tonalità delle parole, ma le parole alla fine sono le medesime. Ovviamente quello che parliamo oggi non è il vero, puro dialetto maranese di un tempo che parlava mio nonno, che ad esempio lo parlava proprio talmente fitto che avevo difficoltà io a capirlo a quei tempi. Ma comunque è rimasta ancora una bella traccia e sto lavorando assieme con Laguna Magazine per riportare questa ancora nostra parlata. Non dico come si può dire in ego, però in qualche maniera ricordare i giovani. Tu ti senti prima maranese e poi friulano? Dunque io mi sento maranese, anche se le mie origini sono friulane, perché se andiamo a vedere il mio cognome Miloco, noi siamo da metà dell'Ottocento presenti in Marano, parlo della mia famiglia. Però vedi il sale, il salmastro, è entrato talmente dentro nella nostra famiglia che sono trasformati dei pescatori e anche provetti. E dire il vero è molto anche la soddisfazione da parte della mia famiglia di aver occupato anche dei spazi, diciamo, della comunità per gestire un po' le cose degli altri. C'è stata una metamorfosi dei maranesi o c'è uno zocolo duro? Allora, se vogliamo dire zocolo duro, entriamo dentro nella testa, cioè nella mentalità che praticamente è ancora lì rigida. Non ha ancora avuto quella elasticità a contatto con la cultura, diciamo, al di fuori di Marane. Nonostante che abbiamo adesso diversi giovani che intendono e intraprendono altre strade, comunque qualcosa di tara rimane nel loro sentimento. Quindi è difficile paragonare un po' la cosa ancora. Senti, ancora due domande. Ovviamente la vostra economia appoggia sulla pesca. C'è rispettata la tradizione di padre in figlio? No, attualmente è pochissima. Abbiamo rari esempi che lavorano in laguna. Per quanto riguarda invece la pesca in mare sono pochissimi. Purtroppo adesso provengono dei pescatori, dei giovani pescatori, provengono da altre attività o se no ci arrivano tardi in questo contesto pescareccio. Perché dico questo? Perché noi, ad esempio la mia generazione, praticamente proveniva da una scuola che era praticamente la laguna o il mare. I banchi di scuola erano la barca. Chi era il libro? Era il nonno, il papà, qualcuno che doveva trasmettere. Quindi era quel trasferimento tra padre in figlio o tra nonno e via discorrendo. A questi livelli ormai è chiuso il discorso. Senti, Beppi, è più bello il mare di giorno o di notte? Il mare? Il mare è come una donna. Dipende da come si veste. Si veste a festa, si veste di lutto. Tante volte è arrabbiata, ha quelle sfumature di schiuma, però il fondo è grigio, è blu scuro. È bello o non è bello? È una cosa indescribibile, non si può. Che rapporto hai con la laguna? Bellissimo. Lei mi ha cocolato, mi ha sfamato, mi ha dato tutto quello che mi era necessario per la mia vita, per la mia famiglia e anche una conoscenza. Un ambiente che per me, la laguna è stato un libro, un libro immenso che forse qualcuno non lo legge o non riesce a interpretarlo, ma se lo guardi con altri occhi vedrai che qualcosa ti dice. Senti Giuseppe, ma i maranesi quanto amano Marano? Tantissimo, tantissimo e hanno ancora per fortuna quella punta di orgoglio, di appartenenza e questo io mi auguro che si mantenga ancora. Siamo una piccola comunità, io spero che non vada dispersa, io spero che non muoia perché è un senso di libertà, di democrazia e più che altro di appartenenza. Andiamo a chiudere se dovessimo dire tre buoni motivi alle persone che non conoscono Marano per venire a Marano? Venite a Marano, se avete un po' di tempo, se volete rilassarvi, è una comunità che accetta tutti. Ovviamente sta, diciamo, come possiamo dire, l'approccio che si ha con questa gente, con questa comunità. I servizi ci sono, è un ambiente unico, un ambiente che merita. Allora io ringrazio Giuseppe Milocco, abbiamo fatto questo viaggio di una decina di minuti o poco più, vi abbiamo portato in giro a Marano Lagunare, quindi è una delle partenze del Giro d'Italia, un momento storico, una vetrina importante, visto che ci sono decine e decine di paesi collegati per vedere Marano Lagunare, lo start rosa del Giro d'Italia, il primo vero star dopo la pandemia che ha dato veramente fastidio e ha costretto appunto gli organizzatori a salite continue. A Marano siamo in pianura, anzi siamo a ridosso della laguna e qui splende tutto. Io vi saluto e vi ringrazio, arrivederci. Grazie a tutti.